Si stava ragionando sui temi, sui miti della creazione, stavamo preparando uno spettacolo di piazza. Allora nei racconti della Genesi e in generale del mondo che nasce dalle acque primordiali si dice che il cielo si stacca dall'acqua oscura dei primordi. Allora come realizzare queste immagini in teatro? Ho subito pensato a una rete da pesca che dall'acqua scura solleva gocciolante un'acqua di luce e stacca dalla prima acqua nera un'acqua superiore, cioè il cielo delle stelle. Allora come rendere questo luccichio utilizzando per esempio una rete? Ho pensato di cospargere la rete di frammenti di specchi, quindi sono andato a casa, ho preso un vecchio specchio, lo prendo a martellate, l'ho frantumato con le piccole croci e dare proprio l'idea di una pesca di luce che dal basso sale verso l'alto. Ecco è nata così la pesca delle stelle. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.